è più di un'ora io mi sto preoccupando si tratta che occorre uno ma anche Leonardo stava nello non c'è proprio nessuno cadendo stamattina come si fa? vogliamo un attimo a moglie lo so che se non c'è stata a casa non c'è nessuno se preoccupa mannaggia, mannaggia ma dov'è non può capire? non sono solo cadendo buongiorno signora sono Annarella ci è stato un Ernesto per caso? da più di un'ora ah e si ha portato la telefonina ah l'ha rimasto in luogo no e veramente non è ancora venuto qua pure io sto un poco preoccupata eh vabbò ne hai facciamo così appena viene mi faccio fare un colpo di telefono non mi preoccupate ah avete avuto qualche problemina stanotte vabbò forse sarà passato un attimo a domenica vabbò nemmeno signora non mi preoccupate state tranquilla signora state tranquilla vi ho detto non mi preoccupate non mi preoccupate voi preoccupate voi eh vabbò nemmeno ci sentiamo dopo vi faccio il telefono da donna Ernesto va bene va bene va bene mamma mia come è lungo sta la moglie di donna Ernesto speriamo che veniamo presto ora tengo proprio una preoccupazione buongiorno Annarella buongiorno buongiorno già ho telefonato alla moglie e mi ha detto che è uscito quasi un'ora fa eh non ti ho capito chi è ancora da venire e ci stanno i telefonini li vogliamo usare ah che battuta spiritosa che hai fatto già ho telefonato già ho telefonato già ho telefonato e la moglie mi ha detto che il telefonino l'ho rimasto a casa eh vabbè hai capito traffico eh traffico si si che vuoi fare io niente però sto preoccupata la gittina ma sto preoccupatissima è preoccupata e fa qualcosa ma è che è che si vede qualcosa si esce va bene ma non lo so eh ma si vede qualcuno faccia qualcosa ma non lo so ma si vede qualcuno faccia qualcosa si esce va bene ma non lo so buongiorno eh buongiorno buongiorno eh buongiorno prego prego datemi il cappotto ve lo sussiamo io prego accomodatevi è questa parte guardate un po' guardate eccoci qua che ci dobbiamo fare la barba una bella barbetta eh vi fate anche la manicure eh piacere si facci manicure piacere sono il barbiere si molto io il capelliere viene più tardi ma che c'entra questo io sono il barbiere l'ha detta alle barbe l'ha detta ai capelli non è arrivata ancora comunque a voi manco mi interessa come vuoi preoccupare Leonardo che eccomi qua prego sono il barbiere di qualità buongiorno 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 tornerne finalmente siete venuti posso questo pannello prego posso pannello posso pannello posso pannello buongiorno 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 ma dico io non è giornata proprio non è giornata proprio tengo proprio sa come che succede non tengo manca farci parlare parla poco un traffico ma che è successo che è successo che ci ha chiamato pure la casa vostra moglie che è successo mi è chiamata mia moglie ma sarà come dire sicuramente io non ho chiuso occhio stanotte è stato brutto rilassai la verità stanotte ha notato tutto un dolore qua la fascia tutta la fascia addominale e io non volevo proprio venire a fatica ma mia moglie che ha detto va 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 faccio una colpa di telefono e non veniva dire qualche amica dire dopo basta che me la fai da casa mia moglie e l'ho già stata a salire niente meno che io appena ci mi si vede sotto il palazzo mi ha chiamato talmente di dolore e talmente di dolore Leonardo mi chiesto di venire a fare l'uomo 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 in terra l'uomo l'uomo ma che maniere guarda che tu stai sempre mese ma tu sei l'uomo si ma vuoi dire la signora Babbo te la fa ma che spazio scusate abbiate pazienza niente nuovo animale animale e comunque poi avete capito da che cosa proveniva questo dolore si perché poi è passata un'amica a volo e mi ha portato all'ospitale con la macchina e là mi hanno fatto una seringhe che stava una spermex una flebbo voleva dire spazmex animale spazmex voi ne capite eh eeeh voi ne capisco signore e ma dico ma perché risponde sempre mese a spazmex a spazmex ma sono per favore o per niente ma perché non ti fai i fatti tu fatti ti ha sezi non ti ho fatto lì tu vabbè usciò ma non lo serve ok ora si che l'ha fatto ma che avete combinato scusate a te per pazienza che se me lo zavano in su no vengo si tira di me ma